...di imprese novembre, superiore a quelli nella parte della Spagna e vicino a quelli agendari. Mentre a livello italiano, sia l'intensità di ricerca, che il personale dedicato a ricerca e sviluppo, è superiore alla media di ricerca e manifattura. Esistono tre tipologie di ricerca, ricerca di base e ricerca applicabile nel sviluppo sperimentale, e negli ultimi anni, vista la quota inferiore dedicata a ricerca di base, si sta cercando di portare di meglio attiscando lo sviluppo sperimentale. Poi si è cercata una correlazione tra gli investimenti della ricerca di sviluppo e l'ambiente del fattore. L'indice di correlazione è stato pari al 0,54, e la minor contà di appartamento della retta di regressione ai dati, a mio parere, è data da tre motivazioni fondamentali. Primo, il carattere aleatorio intito nella variabile analizzata. Secondo, i risultati economici si verificano in grado differente da quelli che ci sono verificati. E terzo, forse si tratta di un modello poco semplice per analizzare una correlazione così complicata come quella che c'è anche più in questo momento. Passando all'internazionalizzazione, si chiamiamo quella commerciale e quella politica, la classifica nei primi dieci paesi.